Allora, benvenuto al presidente di Tecnogine. Allora, innanzitutto spieghiamo ai nostri utenti il perché di questa sua presenza a Venezia. Beh, io sono stato invitato da Medusa per vedere in anteprima Barria, un bellissimo film che, devo dire, ha veramente rappresentato un'eccellenza della fotografia e dell'arte cinematografica. Poi il wellness, che è la nostra filosofia, il benessere e la qualità della vita, entra come stile di vita appunto nel cinema vero e proprio perché gli artisti non possono essere in forma o comunque non possono, come dire, seguire le regole del benessere e del vivere bene. E quindi la nostra attività di educazione e di promozione del wellness come stile di vita entra anche nel cinema. Rimanendo appunto nell'argomento, qual è l'artista, l'attore che ha visto più in forma in questa 66esima edizione? Beh, adesso faccio fatica a saperlo per non fare un torto a nessuno. Dico che comunque una rappresentazione molto evidente di Technogim è Madonna che ha sempre utilizzato Technogim, la nostra fan, ed è stata molte, molte volte protagonista di Technogim utilizzando prodotti negli alberghi. Chiede sempre di avere una palestra Technogim in camera già da molti anni, ma da George Clooney a tantissimi, tantissimi attori americani e anche italiani. Non più tardi in sera ho incontrato Cucinotta e alla quale mi ha appunto detto che è molto contenta di poter utilizzare Technogim da tanti anni. Quindi devo dire che sono centinaia gli artisti che nel mondo comunque fanno ginnastica e si mantengono in forma. Anche perché i ritmi di vita e lo stress, diciamo, della ripresa cinematografica, del set e di quella che è proprio, diciamo così, l'energia necessaria, non può che non passare attraverso il benessere psicofisico. Perfetto, allora aspettiamo George Clooney per farci parlare di Technogim e magari nelle prossime edizioni anche Madonna. Grazie e buona permanenza. Grazie.